Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi ha ospitato questo pomeriggio con inizio alle ore 16 la 32esima edizione del concerto di fine anno. Ad animare questo tanto atteso appuntamento è stata la MAV Symphony Orchestra di Budapest, diretta da Maffeo Scarpis, che ha eseguito musiche di Glinka, Ponchielli, Liszt, Brahms e Strauss. Questo evento è stato realizzato dal Centro di Iniziative Culturali Pordenone, Regione Autonoma Firiuli Venezia Giulia, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, Università della Terza Età e dal Comune di Pordenone. Il grande concerto che è una tradizione del 31 è una preparazione perché ci sono alla fine tre momenti nel terminare l'anno. Questo è il Tedeum nella Cattedrale di San Marco e poi la grande festa questa sera in Piazza 20 Settembre. È un anno che lascia tanto un po' di amaro in bocca e questo è il 2011 ma vediamo di terminare divertendoci tutti insieme a cominciare proprio da quello che viene ospitato oggi dal Teatro Verdi. Vi aspetto tutti questa sera in Piazza 20 Settembre, così tra Bobby Solo e il resto che viene offerto dall'amministrazione come divertimento collettivo, penso che sarà il modo migliore per buttarci alle spalle il 2011 e guardare il 2012 col giusto spirito.